Sabato, al nord perturbazione atlantica. Giornata che trascorrerà con condizioni di maltempo al nord-ovest, piogge mattutine sul Triveneto e tempo più asciutto sul resto delle regioni. Domenica, tempo localmente instabile. La giornata trascorrerà con precipitazioni forti su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, a tratti in Lombardia, sarà soleggiato altrove. Al centro, la pressione è in deciso aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà più nuvoloso in Toscana e con ampie schiarite altrove. Domenica, tempo stabile grazie all'alta pressione. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Cielo a tratti molto nuvoloso o localmente coperto. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il tempo sarà asciutto, ma il cielo sarà molto nuvoloso o anche coperto in Sicilia e con maggiori schiarite soleggiate altrove. Domenica, pressione piuttosto forte su molte zone. Giornata all'insegna del bel tempo, avremo un cielo molto più nuvoloso in Sicilia e più soleggiato altrove. Pioverà in Sardegna. Domenica, tempo stabile grazie a tutti.